Seconda parte delle lezioni di oggi e sono molto contento e ringrazio Gabriele Gamberi per aver accettato questo invito. Come molte lezioni di Labo anche questo incontro è nato per caso ma forse no, nel senso che ci siamo trovati a parlare di tema che tra l'altro mi sta molto a cuore, quella dell'integrazione per persone sbattaggiate, in particolare per i disabili e abbiamo pensato che fare una lezione in senso generale sull'urbanistica non volesse dire semplicemente parlare del rapporto tra lo spazio e l'uomo ma anche una forma di integrazione sociale che si può fare attraverso la progettazione urbana e quindi ho chiesto a Gabriele che lavora per la fondazione ASPI, fondazione ONGUS e che si occupano da anni del tema dell'integrazione dei disabili attraverso modalità di apprendimento di learning e tante altre esperienze veramente molto belle sul territorio di affrontare un tema, quello della città a misura di disabile, un tema che è fortemente presente nella progettazione urbana delle città europee, c'è un premio tra l'altro delle città a misure di disabili e a me piacerebbe che una volta una città italiana potesse essere candidata a questo premio di città a misura dei disabili che vuol dire anche concepire quali sono gli standard per considerare l'accesso alla disabilità come un fattore di integrazione e di produzione della città. Quindi lascio subito la parola a Gabriele, l'intervento sarà quindi in 30-40 minuti e poi le domande e a seguire come conquista il finale da parte dei genti. Il famoso confezio, se non l'ha già mangiato adesso. No, 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 è un po' volato. Quindi grazie davvero e mi metto qui a ascoltarci. No, grazie Rino che mi ha già fatto troppi ringraziamenti. Il tema che ha dato Marco è abbastanza pretenzioso anche perché in 40 minuti o anche fosse una serata piena, la città a misura di disabili vorrebbe dire entrare in merito di tutte le componenti, non solo quelle urbanistiche. Noi abbiamo comunque una rappresentazione, io parlerò siccome di rappresentazione perché vi vorrei dare degli strumenti, nel limite del tempo appunto che abbiamo, in maniera tale che dopo possiate meglio accedere all'argomento in maniera un po' più dettagliata. Io qui ho parecchio materiale però ovviamente dobbiamo, diciamo, produrre la migliore performance nostra in questo periodo, in questo breve periodo. Io ho aggiunto un piccolo, mi sono permesso di aggiungere un sopra titolo, quello che mi ha dato Marco, che lo trovate di migliorare la qualità della vita di tutti, vuol dire migliorare quella delle persone con disabilità. Questo è il contrario? Vedremo che questa presentazione, vedremo che alla fine cambieremo un po' il nostro paradigma, quello a cui siamo abituati, e andremo a vedere anche quali sono le condizioni che ci portano a questo cambiamento possibile. Illustro brevemente cosa farò vedere, purtroppo abbiamo un problema di audio per cui metterò il microfono qui, sperando che si siano. Presenterò brevemente cos'è Aspi, una fondazione, ha già detto Marco, noi ci occupiamo da più di 30 anni di tecnologia e disabilità. Tecnologia per ridurre l'impatto di un deficit, quindi ridurre l'handicap. Adesso poi entreremo nel merito delle parole perché è importantissimo avere un linguaggio comune su questo tema perché voi costruite. Vi farò vedere una brevissima intervista a Zanichelli. Zanichelli è il fondatore della nostra organizzazione perché vi faccio vedere non tanto per dirvi in tre minuti quello che facciamo. Tra l'altro è un video dell'epoca, sono già vent'anni, questo video è stato fatto, una breve intervista di una spezzata, però per farvi vedere che molte volte le cose che poi diventano importanti, insomma che cercano di cambiare un po' gli atteggiamenti, nascono per delle intuizioni delle persone, quindi parliamo sempre di persone nonostante che non ci occupiamo di tecnologie. Quindi vi farò vedere qual è stato il momento, diciamo, iniziale della nostra avventura, ma perché vi serve poi per ritrodurre questo che troviamo verso la fine. Mia parlò di un video, adesso questo durerebbe un po' di più, 12 minuti, non so se ce la facciamo vedere soprattutto per l'audio. La storia della disabilità, la disabilità è una storia non solo recente, diciamo appunto degli alti e bassi la rappresentazione della disabilità. La rappresentazione della disabilità vuol dire come la società rispetto a una persona che apparentemente ha un corpo che non funziona, si comporta. Quindi cercheremo di vederlo. Il cambiamento di paradigma ci porta alla qualità. Com'è adesso la rappresentazione sulla disabilità? Vi farò un brevissimo giochino che facciamo così a video, nel senso che vi chiederò un attimo di partecipazione. Vi farò vedere una breve presentazione sulle parole che fanno la differenza. Vi farò vedere un video, il potere delle parole, per fortuna qui non c'è audio per cui c'è il sottotitolo, lo capiremo tutti. Presentazione, ecco, vi introdurrò ai fondamenti dell'ICF che è la classificazione con cui ora si classifica e si, non parla, ma si classifica lo stato di salute di una persona e quindi anche la disabilità. Se ce la facciamo avrei preparato un piccolo documento. Ovviamente il documento straordinariamente importante e attuale che parla di disabilità è la Convenzione ONU. La Convenzione ONU è la convenzione che è stata firmata da quasi tutti i paesi del mondo, tranne l'America, poi vi spiego il motivo, che definisce i diritti delle persone con disabilità. Una volta che però è stata firmata vuole dire che le politiche delle amministrazioni, degli enti locali, delle regioni, degli stati, dei paesi dovrebbero non più parlare di disabilità, ma mettere le politiche della disabilità nel mainstream, così detto. Il fiume principale della politica dovrebbe anche accogliere questi affluenti che dicono particolari iniziative, politiche, normative, eccetera, per la disabilità, per la differenza, per il fatto di essere stranieri, eccetera. Ultimo, ma non credo proprio che ci arriveremo, piano biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità. Dopo la promozione, ogni paese era venuto a dare un documento che rispetto a tutti gli articoli dicesse com'è la situazione nel nostro paese. È stato un documento fatto dall'osservatorio che è dentro il Ministero delle Politiche Sociali. Questo documento è stato presentato a Bologna a luglio del 2013, quando c'è stata la conferenza nazionale sulle disabilità, è diventata a legge dello Stato il 28 dicembre, se mi ricordo, con un decreto presidenziale della Repubblica. Pone 140 situazioni da cambiare in 7 aree. È biennale, è stato fatto a luglio. Allora, ad oggi non c'è ancora il decreto ministeriale che definisce i componenti dell'osservatorio che dovrebbero non solo applicare, ma governare questi 140 punti, che non sono costo, sono il 90% gratuiti, cioè gratis, si modificano norme, eccetera, che non tolgono soldi. Però noi siamo così. No, diciamo, in questa situazione è così. Mi ero permesso, fra la Convenzione di Arminare, di fare un tentativo di un documento, che poi lascerò a Marco, che odia ai sindaci che incontrerà, l'applicazione sostanzialmente degli articoli, è un esercizio stilistico, è una pretesa di essere, ma riportate in città, come se ad esempio il nostro sindaco, il sindaco di Budrio, volesse applicare gli articoli della Convenzione sul proprio territorio. Ho messo, ovviamente, i principali. Bene, questo è il percorso. Vi chiedo di fare in qualunque momento domande, eccetera. Vediamo se... Sì, sì. Questo è il libro. Questo è il libro. Grazie. 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 a quel signore che è stato intervistato lì, che era il direttore regionale della regione Emilia Romagna dell'IVM, se potevano fare un mestiere diverso, quindi se potevano andare davanti a un computer. Questa persona si occupò di avere tutte le autorizzazioni del Ministero del Lavoro perché un cieco doveva toccare, si impotizzava che arrivasse davanti al computer e tastando con le mani potesse prendere la scorsa. Quindi fecero alcune verifiche, verificavano che non c'era questo problema, fecero un albo provvisorio dei programmatori cedi e noi iniziamo nel 1980 a fare a Bologna presso l'Istituto Cavazza dei Cecchi il primo corso a livello mondiale, perché era la prima volta nel mondo che si faceva, cechi che imparavano ad usare il computer. Perché l'Istituto dei Cecchi? Ed era questo più interessante. Perché l'Istituto dei Cecchi nel 77 fu chiuso. Fu chiuso da un provvedimento che segnò, che siglò, diciamo ora, l'inizio della socializzazione delle persone con disabilità, che era la legge dell'integrazione scolastica. Fino al 77 chi nasceva con delle disabilità non andava nella scuola pubblica, nella scuola di tutti. Aveva una scuola speciale, l'Istituto Cavazza, aveva questa funzione di accogliere persone cieche, aveva gli assistenti, già faceva un'operazione di inserimento nella scuola, se voi siete di Bologna, del Galvani, l'Istituto Magistrale, che erano appunto, diciamo, gli spocchi, gli insegnamenti più facili per le persone cieche. Però era una vanguardia. Nel 77 un decreto regionale disse chiaramente inutile perché la scuola, cioè perché i ciechi dovevano andare nella scuola pubblica. Questo permise di cambiare totalmente la rappresentazione della disabilità. Fino a quel giorno, fino a quell'epoca, fino a quell'anno, i disabili stavano in casa o negli istituti. Perché è stato in casa o negli istituti? Perché le famiglie, i genitori si vergognavano? Perché non c'erano le condizioni, diciamo, perché le persone non ci sponevano neanche probabilmente la domanda, ma perché? Da un lato questo è stato positivo. Dall'altro c'è stato invece un aspetto negativo, vedremo dopo in qualche slide, come è risposto alla società. La risposta della società è stata, bene, io gli permetto di andare a scuola di tutti, però ci devo mettere un insegnante di sostegno, però ci devo mettere un educatore, però devo cambiare, togliere i gradini o devo chiamare degli operatori che portino su una persona perché i gradini non li posso togliere. le famiglie cominciarono ad associarsi, no? E le associazioni cominciarono a fare un'operazione richiestiva, andarono in comune, andarono dai parlamentari, dai diputati, al governo, eccetera, dicendo, guardate che la società non ci accoglie bene, quindi dateci dei soldi. E siamo nella fase assistenziale, sociale. Quindi cosa sono nati in quel periodo? Tutte le indennità che in questo momento sono previste e che sono in qualche modo sotto attacco ogni tanto da qualche governo, a partire da Fini, inizio a Fini, a chiedere a Ips per vedere tutte le indennità perché è considerata sproporzionante rispetto a... Io non entro nel metro, per fortuna non ho mai avuto problemi, e non ho problemi né di famiglia, cioè con la disabilità io ci ho lavorato perché stavo appunto finendo l'architettura, incontrai questa cosa e mi piace moltissimo. Quindi, diciamo, io l'ho fatto come professione. E quindi posso dire tranquillamente peste corna di quel che a me, diciamo, non garantisco da questo punto di vista, cioè le associazioni molte volte pensano solamente a un aspetto associativo. Quindi, io sono più forte di te perché ho più soci, io sono più forte di te perché mi occupo di centri, piuttosto che di soldi, piuttosto che qualunque malattia rara che c'è al mondo, però tendenzialmente non fanno proprio il loro dovere di andare a migliorare la qualità della vita dei propri associati, piuttosto che non dei soldi. Ecco, questa cosa qui si quadra perfettamente nel ragionamento che faceva anche prima di Davi. Nel senso che da lì è nata la giustificazione della società, quindi per il paese, per chi lo governa, per i progettisti, per tutti, di dire, beh, vabbè, senti, io faccio il possibile. Poi, male che vada, vabbè, quel soldo lì, per dargli soldi, per chiamarli interpreti, per superare un problema di comunicazione, io gli do i soldi, sia l'anzo lui, io do i soldi a questi cechi, così, siccome non può montarsi per spostarsi, che me frega me di rendere più facile e facilitante le cose, l'urbanistica, i percorsi stradali, la valorizzazione dei portici, ecco, no. Poi a un certo punto è nata una legge sulle barriere architettoniche, dove le barriere architettoniche sono viste esclusivamente per le difficoltà motorie. Perché? Perché i disabili motori sono un numero abbastanza alto rispetto a quelli sensoriali. Quindi si gioca sempre sui numeri e sulle... i disabili psichici, che sono ancora più dei motori, per quelli che stanno o nei centri, mi hanno chiuso i manicomi, però mi hanno aperto laboratori protetti, eccetera, per cui, più o meno, siamo giustificati anche in questo. Comunque sia, quindi era per questo perché entro il burro a un certo punto un discorso che è quello che chi opera nelle amministrazioni dovrebbe avere la conoscenza dell'aspetto di ciò che è la disabilità. In questo momento la disabilità è uno stato di salute che incontra un ambiente che non gli facilita l'esercizio di quella funzione, di cui l'ambiente è caratteristico. Però lo stato di salute deve essere per sempre disabilitante. Cambia l'ambiente però è sempre quello. Vi faccio un esempio. Io adesso qui il video forse, l'audio del video forse non l'avete proprio ascoltato benissimo tutti. Un piccolo handicap, no? L'handicap qual è stato? È stato che io ho dovuto trovare un facilitatore, questo microfono, perché non avevo il cavo. Ho provato a metterlo lì, ma non funziona. Voi che dovevate ascoltare, avete percepito con quello che potevate percepire, quindi con il vostro stato di salute, se qualcuno di voi questa sera, non so, ha le orecchie chiuse perché è stato in montagna finessa mattina doveva ancora stato in aereo, no? Che si è detto dopo un po', mi ricorda che si sentono ancora chiuse, non ha sentito nulla. Quindi lo stato di salute di qualcuno che è in questa condizione ha trovato, però in questo caso non è una persona disabile, è una persona che in questo momento è disabile rispetto a questa situazione funzionale, perché non ho trovato un facilitatore, ho trovato una barriera. Allora, l'avventura della disabilità attualmente è questa, si gioca sulla classificazione del funzionamento. quindi è proprio un cambio totale, cioè se prima voi incontravate una persona che diceva io sono invalido al 100%, perché la commissione medica mi ha riconosciuto un'invalidità del 100%, l'invalidità del 100% ce l'ha anche il cieco, e vedete come ve lo faccio vedere perché non abbiamo in tempo, ma un cieco usa un iPhone, usa un iPad, usa il touch, tranquillamente, meglio del sottoscritto, ad esempio. È invalido? Sì, è invalido per la legge al 100%, però nell'uso di quell'iPhone è validissimo. Allora, l'invalidità non decide il destino funzionale della persona, quindi ci possono essere persone con una piccola invalidità che però in un certo ambito funziona domanda, e quindi in quell'ambito lì noi li mettiamo a lavorare, non li mettiamo a studiare, cioè lo studente che ha delle difficoltà uditive, non lo mettiamo in un ambiente rumoroso, perché al massimo si fa le protesi, oppure se ha le protesi le chiude, perché gli ha fastidio il rumore, è un'assurdità questa della persona sorda nell'ambiente rumoroso. L'abbiamo fatto tante volte, tanti datori di lavoro li ho messi lì. Nessuno si preoccupa di un ambiente rumoroso scolastico, dove i ragazzi e i bambini stanno in un ambiente che un adulto, diciamo, che ha la testa e sulle spalle, dice, dopo dieci minuti scappa. Avete mai provato a dare un consiglio in classe dei vostri figli, se ne avete, uscite e dite, ma come fa a stare i miei figli in questa classe? Provate a pensare uno che ha dei problemi, ad esempio di tipo, oppure lo metti in fondo, oppure decidi di metterlo con le spalle voltate alla porta perché tanto chi se ne prega se lui non riesce a sentire chi entra. Quindi, allora, tutti questi aspetti qui, capite bene che, diciamo, intervengono nel concetto di rappresentazione della disabilità. Quando noi leggiamo, vediamo, ormai è tradizione che quasi tutti i telegiornali ci riportano il falso invalido, perché fa moda in questo momento. Farsi invalido il cieco che cammina da solo col bastone. Farsi invalido il cieco che entra nel negozio col cane a comprarsi la pasta asciutta. Farsi invalido il cieco che va dentro la cabina telefonica e fa il numero telefonico da solo. Ragazzi, ma questa è una cosa fuori di testa, cioè noi abbiamo fatto delle conquiste. Trent'anni che c'è l'integrazione e siamo a questo livello che viene posto come scandalo ciò che era l'integrazione. Quindi, io credo che chi vuole diventare amministratore e giocarsi la sua credibilità verso le persone con disabilità, e poi vediamo cosa vuol dire, poi in effetti anche numericamente, deve sapere queste cose. per sapere che tutti i servizi, tutti quelli che tira dal più piccolo al più... devono tenere conto di queste. Comune di Bologna, faccio un esempio, poi intorno alle... Comune di Bologna servisabile che ha il... come si chiama... il contrasempo. vuole venire a Bologna e entra nel centro storico, magari viene da Modelo o da Budino, deve mandare un fax, che fax, se no se lo scansione, eh no ma non. Dicendo io quel giorno lì vengo e quindi posso entrare, chiede l'autorizzazione. Il modulo è fatto in una pagina. Nella pagina successiva il file word è di due pagine. Nella pagina successiva c'è il fax per chiedere il rincorso del mondo. Perché l'amministrazione comunale non garantisce che tu rimandi i fax e che... Sì, io in questo caso, ma Sire e Bologna non ti fa molto. Provate a pensare a una persona che ha dei disagi, no? Che dopo deve andare all'ufficio della polizia municipale per andare e pagare, cioè... Ecco, allora, tutte queste cose qui... Siamo ragionari, credo, delle persone che affrontano, come siete voi, cioè affrontano in maniera moderna, innovativa, questo tema. Allora io vorrei parlare brevemente, per alzato di mano. Mino alto, vi piace come termine? No? No, per tutti. Sì. Disabilità? Sì. Deficitismo? Sì. Meno azione? Meno azione? No. No? Sì? No? 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 No per tutti? No. Prevalentemente no? Portatore di etica? No. Sì o no? No. No. Sì? A te non piace? No. A chi piace? Diversamente abile? No. Enica. No. No. Non ne sono quali alzato a sentire. No. 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 Noi! No, córligt Dallas, pavement. Fin Li vedono di sviluppo, persona con disabilità. Sì. Qui non è un messaggio. Cecho. O vi piace di più non vedete? Non vedete? Cecho. Vedete conto che i cecchi vorranno essere chiamati cecchi? Ipovedente o sordovedente. Sordo, audioresio. Sordo. Muto, no? Sì o no? Se lo è. Qualcuno dice se lo è. I sordo muti non esistono quasi. Il mutismo è una cosa, la soledità è un'altra. Il mutismo nel sordo muto è la concezione, purtroppo, tolta da prodi, da tutti i decreti, legge, tranne nel riconoscimento di invalidità. Per cui il bambino che nasce con soledità profonda riceve un certificato di sordo mutismo, oggi. Ed in benità viene rilasciata, in benità di comunicazione, viene rilasciata solo ai sordo muti. Tant'è che chi va in commissione, perché magari che l'ho chiamato, non è che il disabile, riceve questa targhetta un po' infamante, solo all'inizio, ma ogni tanto, fini, ma anche altri, purtroppo, i nostri, anche gli attuali nostri, e gli viene in mente, beh, diciamo, spendere il rifiuto, dove andiamo a prenderli, non si so di cazzo, però a me ce ne sono una marea, com'è che non li andiamo a prenderli, lì, in quella parte lì? Allora chiamano uno che è stato chiamato sordo muto, e allora lì mi viene in dubbio, ma questo parla, allora non è più sordo muto. Cioè, il medico, guardate, il medico, non sto scherzando, il medico competente, medice, che prende non so quanti soldini tutti i mesi, e anche forse una volta, forse adesso meno, anche il zottone di presenza nella commissione medico-legale. Sordo muto non esiste. Se un è sordo viene abilitato a linguaggio, ha tutte le caratteristiche di apprendere la lingua. Se ciascuno di noi, ognuno di noi, se noi fossimo nati dentro una caverna, il linguaggio non è insito nel, non è genetico il linguaggio, perché non parliamo in italiano, in bolognese, e un altro parla giapponese, perché no, c'è in Giappone, il linguaggio è sociale come tipo di approccio. Quindi uno nella caverna, infatti sono stati dei casi con le persone, erano nati nella caverna, rimaste nella caverna, e non parlavano, erano muti. Era un piccolo giochino, allora mi dico solamente qual è attualmente il termine, ma il termine più giusto è sordo. Persone con disabilità per identificare una persona. Malattie e disturbo definiscono effettivamente delle situazioni, degli stati di salute. Un disturbo non è certificato, avete presente i dislessici, di cui si parla tanto, sono dei disturbi, non è un deficit certificato. Perché? Perché non si sa la causa. Quindi fino a quando non si sa la causa, se è una causa neodologica, prima o poi, poi si scoprirà, avessimo delle modalità di accertamento, migliori del TAC, esale TAC, ci hanno portato molte risposte, forse troveremo anche da qualche parte del cervello qualcosa che non funziona bene. Quindi questo è un giochino per farvi capire come chi scrive le leggi o chi ha un ambito di responsabilità può pensare a una persona come portatore di etica. Guardate che molte volte lo si sente dire, anche proprio nelle comunicazioni ufficiali, formali, eccetera, portatore di etica, dove lo porto? Vabbè, questo per dirvi come è molto variegata la, diciamo, quest'area, questo argomento. Voi mi direte, ma cosa c'entra con l'urbanistica o con la progettazione universale una città? Ma se i nostri amministratori pensano a un portatore di etica non li verrà mai in mente che i suoi servizi non sono accessibili o se gli viene in mente, gli viene in mente il gravito. Nelle parole contenuti il modello operativo a cui si fa riferimento. In questo caso è molto importante, abbiamo detto, una conclusione tra deficit, deficit, da deficit, si guarisce, secondo voi? Sì? Deficit? No. No, no. Deficit è la causa dell'invalidità, diciamo, funzionale perenne. Deficit è una mano che non si ha, una mutazione, quello è un deficit. Cioè, funzionalmente, poi andiamo a vedere, vediamo a Budrio, a Vigorso, dove c'è il linee di Vigorso che rimette le mani, le collega ai merdi e fa rifunzionare una mano che era perduta. Però il deficit rimane qualunque, più l'altro. Quindi il deficit è permanente. La malattia no. La malattia è scura, con i falsi. Utilizzare termini impropri, fare confusione linguistiche, può essere un modo per aumentare l'endica, anziché diminuirlo. Guardate che è molto così, è molto così. Noi abbiamo, in Italia, le normative più innovative. Noi siamo stati gli unici, è partito da Siena, che festeggia quest'anno, proprio la modalità integrativa scolastica, la scuola di tutti è nata a Siena, si è diffusa in Italia, con delle norme, con delle leggi, e le prime sperimentazioni sono state fatte a Siena. E' un modello che ora stanno copiando gli altri paesi, dopo una vita che hanno le scuole speciali. nonostante questo, noi facciamo confusione dei ruoli. Gli insegnanti di sostegno, più l'educatore, più l'assistenza sociale, più quell'altro che devono coprire le ore in cui il bambino sta a scuola. Ma che logica ha questo? Cioè, se io devo mettere il bambino che ha 20 ore di scuola, 20 ore tra l'educatore e l'insegnante, e non mi poco il problema, che forse l'educatore dopo un po' me lo tolgo da lui, perché compie un lavoro, educa. L'insegnante di sostegno dovrebbe insegnare, dovrebbe essere al supporto della classe, non del bambino inserito. E cosa fa l'insegnante di sostegno? Taccato al bambino. Oppure ne ha due, perché percentualmente, più o meno, ogni insegnante ha 1,80. Quindi va dall'80% dell'altro disabile. Oppure, proprio perché non ci sono molti soldi, si è inventato, dopo un po' che si spensava, l'aula del sostegno. Andato nelle scuole c'è l'aula del sostegno. Allora, ci andrò anch'io, perché così mi sostengo. E mi riposerò. Cioè, abbiamo delle leggi perfette, meravigliose, che ci invidiano gli altri paesi e li stiamo finando così, con una pratica sbagliata. Ma perché non c'è competenza? Non c'è competenza. Soprattutto sono alcuni, perché mi spiace dirlo. Quindi, per un individuo, la rinnovazione che rimane, era un brutto termine. Noi però abbiamo guardato minorato, minorato subito, ho visto le facce. No, l'innovazione o deficit a carattere permanente. Questo dice la convinzione, che finalmente dice, è disabile chi ha un deficit permanente. La disabilità, invece, dipende dall'attività che gli deve esercitare. È etica, esprime lo svantaggio che ha nei riguardi di altri individui, i cosiddetti normodutati passato in tempo. Un esempio, un ragazzo in carrozzina, che dunque ha una disabilità del movimento degli altri inferiori, diciamo, il paraplegio. Avrà certamente un handicap quando si tratta di giocare al calcio, certo. Calcio con i piedi, poi il calcio con la carrozzina, sappiamo che ci sono squadre. Ma non ne avrà praticamente nessuno nel far uso di un personal computer. No. Quindi, l'individuo è relativamente handicattato, possiamo dire. Cioè, l'indicattio è un fatto relativo e non assoluto, al contrario di ciò che si può dire per i deficit. Abbiamo un esempio, in realtà, proprio di Vigorso, ad esempio. Una mutazione, sapete, che è Zanardi, no, che è diventato un testimonio di questo centro. È arrivato a linea di Vigorso senza due gambe. Gli hanno messo, prima, hanno rieducato, gli hanno messo delle protesi di un certo tipo di materiale gommose, eccetera. Poi gli hanno messo l'esoscheto, addirittura, nella parte inferiore. Un'amputazione non può essere applicata, quindi assoluta, cioè nel senso che quello è. Quindi, lo svantaggio è decennica, è invece relativo alle condizioni di vita e di lavoro. Allora, Zanardi, nel momento in cui aveva un'amputazione, non poteva più fare il suo mestiere, no? Con dei facilitatori, lui è tornato sul lavoro, no? In una parola della realtà in cui l'individuo amputate col cane. Ce n'è solo uno o poco di più, Zanardi, perché... Dunque... Quindi l'end è il gruppo di copra fra individuo e situazione. Quindi, scordatevi che l'invalidità definisca la disabilità della persona e che una persona funziona negli ambienti, nel contesto, nello stesso modo sempre. Ce ne accorgiamo noi, no? Siamo funzionanti meglio in un certo ambiente più, per noi, più naturale. C'è gente che non può stare solo, no? Quindi il sole, l'ambiente naturale, certe volte è di svantaggio, diventa una barriera. Quindi una persona in quel preciso momento è handicappata. La classificazione ICF, cioè quella che noi usiamo da una decina d'anni, è proprio questo, cioè definire, classificare il funzionamento di una persona con dei codici, ovviamente, che sono dei codici che però parlano in italiano, cioè c'è un codice che dice questa situazione. Classificano funzionalmente e dicono guarda, tu per quest'ambiente qui hai questi fattori ambientali che possono essere positivi o negativi. Se un amministratore ragionasse così, per tutti, e non per la progettazione universale, probabilmente non riuscirebbe a fare per tutti la facilitazione, ma creerete forse dei facilitatori che in certi modi e in certi contesti sono delle barriere. esempio classico, una scala, perché è una barriera, secondo voi? Per chi è un marciapiede? Per chi è che diventa una scala per uno? Per la scala. Per la scala, no? Ok. Per chi può diventare un facilitatore? Per un cieco. Un cieco, la scala. Tant'è che il cieco si incavola se la scala è fatta male. Non so chi frequenta il comune di Bologna, lì nella piazza, lì nella piazza del paradisus, quella gradinata che va giù è tremenda. Se ci fate caso, è tremenda. Non corrisponde ai nostri criteri criteri di alzata e pedata. È stata fatta da un progettista che non capiva niente. Pieno, probabilmente, di riconoscimenti, ma ha sbagliato. Ha sbagliato. Quella situazione lì è invalidante per chiunque, per il giovane, ma per il vecchio. Fai il fumo tra i gradini e poi devi fermare perché noi siamo abituati a un passo di più o meno medio. Le pedate sono state fatte e non mica perché così ci tiravano di farle, non so, sono 28, mi sembra. In quel modo lì. Perché? Sono più vicine alla fisiologia umana contestuale di un paese occidentale, immagino. Perché se andiamo a un paese dove le persone sono più piccole, probabilmente hanno i piedi più piccoli, e devi adeguare quelle pedate e le alzate a quel tipo di fisico. ecco, quello ha, non so, non so dove si è andato a prendere i piedi, solo per bell'essere. Ecco, era così, c'era una prospettiva organicistica nel 1980 e nel 2001 è nata questa prospettiva, che è multidimensionale, è la ricerca e classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute. Guardate, è la prima volta che la disabilità viene accostata alla salute nella legislazione mondiale. È la prima volta in Italia, soprattutto. Nonostante che, appunto, ripeto, noi siamo molti innovativi, ma prendiamo delle grandi volte dall'Europa. per riuscire probabilmente a risparmiare, invece di trovare i falsi validi che paghiano anche l'Inps per fare tutti gli accertamenti e poi, proprio pochi, perché i dati che ci sono sono veramente appilenti nella spesa che è stata fatta, cerca di corrispondere alla legge che fa. La legge 68 del lavoro dice che è obbligo del datore di lavoro adattare ragionevolmente il posto di lavoro. Obbligo. Quindi un disabile, ma anche un disabile acquisito, guardate, non è solo quello che nasce, il disabile, ma può capitare a noi, direi. Cioè, io vedo quotidianamente delle persone che purtroppo ai me sclerosi sono degli accidenti ai me che ci capitano, perché il nostro corpo a un certo punto funziona peggio, no? Incontra un limite, un limite. E queste persone chiedono un adattamento. È obbligatorio per il datore di lavoro adattare. Beh, ragionevolmente, noi ci abbiamo messo questo ragionevolmente e ogni anno non so quanti milioni paghiamo perché non abbiamo regolamentato cosa vuol dire ragionevolmente. In più le spese, perché un disabile dice no, tu ragionevolmente, io penso che tu mi devi distruggere sta roba e farmi una cosa quadrata. E l'altro dice ma te sei pazza, eh vabbè, allora io ti denuncio. Io credo che ragionevolmente sia come la penso io, non come la pensi tu. Quindi, spese tribunale, tribunale, avvocati, alimenti, tutto questo bel sistema. Noi paghiamo lì, paghiamo tante altre cose legate alla disabilità. Quindi, il CF parla di funzionamento umano, il modello fornito è universale perché l'ha deciso il mondo. Quindi, è linguato, se io sono classificato funzionante bene in questo contesto e va in un contesto analogo in Giappone, non dico per battuta Giappone perché Giappone è quello che sta collaudando la il numero di anziani percentualmente rispetto alla popolazione più alto del mondo. Quindi, stiamo tutti guardando cosa sta succedendo da loro. Fra 15 anni loro avranno il momento del pareggio. Cioè, percentualmente non ci saranno ancora più percentualmente più anziani degli altri. Quindi, stiamo guardando cosa succederà da loro in termini di abitabilità, di accessibilità di... Nelle nostre aziende a 50 anni qualche forse un paio di decenni fa si andano in pensione. Poi si diceva cavolo però andate in pensione sai che dopo due anni morto? Allora, si diceva no, magari la frase classica e si continuava a lavorare forse è andato in pensione smesso di lavorare ora è morto. Allora, molte disabilità, molti deficit che nascono ahimè in quelle età lì questa età lì vuol dire che una persona che magari prende una scorsa multipla a 50 anni che capita e anzi è crescente questo risultato fino a 65 sta in quella azienda non può mica più mascherare che a questo deficit perché ogni 2-3 anni dipende le cadute che ha sta a casa un mese poi torna se non è remissiva torna con una situazione funzionale peggiore della prima cioè deve fare qualcosa allora cosa fa? Fai riconoscimento della legge della disabilità e dell'invalidità lì non si dice guarda che mi è capitata sta roba dopo un mese forse o dopo due che ha elaborato il lutto che ci capita una cosa così credo che non sia molto leggera cioè per un po' diciamo andiamo a 3-20 per cercare di capire ma quella da sciocchezze vado a fare degli altri esami passo un mese poi quando so perfettamente che è così magari comincio a piangere e piango per un mese poi alla fine mi dico senti mi devo in tanto nel partempo sono state a casa due mesi l'Inse ci mette 359 giorni mediamente a riconoscere una persona invalida capite bene che questo ha già fatto un anno di assenza dal lavoro magari senza riconoscimenti viene basato tutto fuori non è che parliamo di allora ecco io credo che sa che non ho parlato assolutamente di urfanistica ma penso di avere introdotto più delle cose e quindi le parole non sono delle aspettate volevo farvi vedere velocemente un video le parole non sono marginali a questo contesto questo è come la forza dei paroli titolato a questo Grazie. 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 Credo che sia tardi però. Se avete delle domande per quello che sono riuscito a farvi vedere... Non siamo entrati nel merito, io ti devo mandare del materiale, con preghiera se lo vuoi diffondere, se qualcuno vuoi approfondire delle cose. Ma anche perché è un numero di prima, ma come venire stiamo registrando tutta la... Ok. Grazie. E alla fine, anche per una modalità legal funding, abbiamo l'obbligo di rendere contare quello che abbiamo fatto, quindi faremo un libro finale di tutte le elezioni. Quindi vi chiederò di creare anche la parte che non sono riuscita a fare da oggi. Grazie. Ci sono domande? Qual è il primo passo, secondo lei, verso una città, diciamo, in bassi termini, apportata di disabile? Io credo che sia la formazione delle persone che decidono. Sono troppo rapidari. Quasi facciamo. Noto, al meglio, nei vari anni che lavoro in questo settore, noto che c'è proprio una incompetenza. o quello che si conosce è quello che si vuole conoscere, o è quello che ti fa conoscere. È vero, io sto parlando però da persone molto nette, quindi le mie parole è difficile forse che le troviate sulla bocca di una consulta comunale. perché consulta è fatta di associazioni, come dicevano prima, forse un po' più legate ai privilegi, per cui magari, però è quello, però pensate Bologna, Bologna ha i portici. I portici è un facilitatore in sé, cioè proprio in sé. È nato per consentire agli studenti di fare lezioni, quando a Bologna pioveva, domenica arte, forse generale di più, ma di adesso, i portici erano obbligati, i proprietari delle case, del percorso che faceva l'insegnante, il professore, per recarsi alle aule. A un certo punto le aule non potevano più contenere gli studenti, parliamo di me e quattro, e ci fu un obbligo comunale che disse, chi ha proprietà sul percorso, percorso, cioè pensate che valore aveva la formazione, che valore poteva avere la cantura, no? all'epoca. È stato un facilitatore, è stato un facilitatore fin dalla nascita, del 2004. Cioè è micidiale, Bologna è micidiale da questo punto di vista. Perché Bologna è affollata di persone con disabilità? Le persone con disabilità vengono, i studenti disabili vengono a Bologna, la ritengono una città accogliente. Siamo noi che non la rendiamo accogliente quando mettiamo i motorini in mezzo a marciapiede, quando non ci preoccupiamo che... Però è anche vero che molte volte la tecnologia aiuta fino a un certo punto. Provate a pensare, gli autobus hanno il cicalino che dice, non cicalino, la voce, no? Che dice, ecco, ci sono degli autisti che hanno chiesto la, diciamo, l'inidoneità al lavoro perché è stato introdotto questo. Perché per obbligo del regolamento, del traffico, non so come si chiama, quello che definisce i criteri, le norme per guidare, eccetera, impone che un autista di un mezzo pubblico non possa indossare le cuffie. Quindi queste, tutte le volte che aprono la portiera davanti, sentono ripetere all'infinito per proprio pensare sei ore al giorno, sentirsi sta roba. Alcuni di loro hanno preso su di testa e hanno chiesto ai sindacati, no. I sindacati hanno detto, beh, ti diamo un vantaggio, penso sette, otto euro al mese. Poi a questo punto, quelli che sono ripetati hanno detto, no, sette, otto euro al mese, mi metto le cuffie. Infatti adesso li vedete, no? Vedete mai un autista che non ha le cuffie? Una volta era impossibile parlare all'autista. C'era tanto di cartella, no? Oltre a sputtare per terra, perché erano i famosi cartelli degli autobus, vietato sputtare per terra e di fianco vietato parlare all'autista. Per fortuna non ci sono tutte e due, mi sa. Purtroppo si sputtano. Ecco. Se cacchi una considerazione, forse, con la terza domanda. Io sono ministra che c'è qua, e mi occupo di associazionismo, e avendo a che fare quella... Parlo a domanda con l'associazione. No, 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 no. Avendo a che fare con un esempio concreto, mi sono resa conto di quello che invece può essere veramente una, banalmente, un discorso molto banale, però una barriera architettonica, fondamentalmente non avendo mai avuto io probabilmente problematiche che si sono protratte a lungo nel tempo, non mi sono mai accorta effettivamente di quelli che potevano essere degli impedimenti ad un accesso qualunque. Una ragazza che lavora alla banca del tempo è in carrozzina e ha offerto la sua disponibilità a tenere aperta la banca del tempo. Adesso ha avuto il problema quando siamo andati a vedere l'uogo fisico con questa ragazza doveva entrare da sola, che è un seno in pieno centro storico, ci sono due gradini per accedere alla sala e da lì è venuto tutto il ragionamento di creare questa pedana, essendo un palazzo più storico che è soggetto a vincoli. per cui però a quel punto cioè questa barriera viene diciamo tolta da questa pedana però la pedana qualcuno la deve aver mettere e la pedana pesa per cui le persone devono essere due per far sì che questa pedana venga messa perché poi dopo questa pedana deve essere tolta perché essendo sotto un portico rischiamo di creare le problematiche da un'altra persona. E magari quella barriera viene in questo momento diciamo eliminata. Però ti rendi conto che all'interno di un paese ci sono mille barriere architettoniche quindi magari questo era il corso che lei voleva fare che non abbiamo avuto non so niente però volevo capire cioè è una considerazione probabilmente perché ci vorranno anni per riuscire ad eliminare barriere architettoniche anche visibilissime io credo che sia impossibile nel senso che io sono dell'idea che non può essere per tutti chi dice questa è una cosa per tutti sta dicendo una banda in più tu fai riferimento a un paese storico in Italia sono tutti paesi storici tutte le città sono storiche hanno un centro storico inaccessibile per natura proprio perché dovevano essere castelli dovevano essere stretti dovevano essere con gradini dovevano essere difficoltosi dovevano essere barriere magari a degli invasori ed è ovvio che se li teniamo così giustamente diventa un barriere anche per noi quindi cioè l'approccio dovrebbe essere questo soprattutto nei servizi cioè si fanno dei servizi che sono inaccessibili per loro natura allora i comuni adesso sono obbligati a rendere accessibili siti da piano pian tutta di avere accessibili siti ok ma non è un grande sforzo l'universal design la progettazione per tutti dice quando ti affidi a un progettista HTML chiedi ma tu sai quali sono i criteri del Q3C che dice di farlo in questo modo di fare quest'altro se ti dice di sì allora tu gli dici vabbè non costa più il costo uguale un conto è decidere fare un sì poi accorgersi alla fine che non è accessibile non è che sia un danno enorme perché poi andate a vedere quali sono quanti perché poi le norme in teoria più stringenti sono quelle legate ai cecchi in realtà ce ne sono moltissime almeno purtroppo più diciamo complicate e anche più difficili da ridurre che sono il linguaggio cioè le norme prevedono un linguaggio semplice comprensibile e lì è difficile e cavolo provate a fare un testo anche perché è lì il costo no? una persona è il redattore di un sito in teoria che dovrebbe essere quasi un linguista voi sapete che il vocabolario di base il futuro parla di 800 parole in Italia sono 4 milioni di analfabeti quei 4 milioni di analfabeti non le erano sicuramente un sito istituzionale pur essendo fatto bene insomma perché non riescono a capire cosa dice noi ci preoccupiamo della bellezza certe volte la bellezza no però le norme dicono no non devi fare un sito da schifo devi fare un sito bello tieni conto che sono delle norme stringenti alcune più difficili quindi sei in tutte le cose hanno il lato positivo e il lato poi negativo risporta le coste però molte volte ce le vogliamo faccio solo questi ultimi esempi e basta le sedi di quartiere vedete se voi andate in un quartiere in un ufficio analfabetico entrate dentro e trovate dieci persone che vi salutano bello è perché accogliete i cavoli vi guardate intorno sette otto dieci persone poi vedete alcuni con disabilità e altri tornate fuori cosa facevano tutta quella gente lì cioè io ero abituato a una persona dieci come uscite rispetto all'eserizio qui mi stanno pregando perché parlano dieci persone cosa succede? succede che i comuni lo so bene non possono assumere no? e quindi non possono fare bambini però i disabili li possono inserire come livello B il livello B è a livello basico no? non puoi chiedere a livello B di fare un atto amministrativo di fare una determina di scriverla cioè non può accedere agli altri quindi può fare il commesso quindi dove lo metti lì? dove mi metti le didone che magari provengono dai nidi perché hanno raggiunto già ai 55 anni che cominciano le date a dire ma io non riesco più a gestire un bimbo di 7-8 anni io gli mettono lì cosa pensa il cittadino quando è fuori da un ufficio o un anagrafe dice beh otto persone e gli ho detto come si risolvono questi problemi? cioè noi risolviamo i problemi da una parte e creiamo un'altra dall'altra a parte anche mettere insieme donne disabili vi raccomando come gli atteggiamenti bisogna guardare gli atteggiamenti l'ICF ci insegna a guardare gli atteggiamenti sempre troppo punto ecco sostanzialmente la parte sul linguaggio secondo me un modo per raccontare la gestazione universale è anche dare dei numeri di prospetture del gruppo dell'esilità cioè parliamo di 80 milioni di persone in Europa il 6% della popolazione è il terzo paese del mondo parliamo di un valore stimato dei servizi assistiti alle persone di 30 miliardi di euro allora è possibile far capire che in realtà è un mercato è un consumatore esatto che se lo metti nelle condizioni anche di vivere e partecipare e consumare a un mercato quando parlavamo prima delle città misure di disabile Berlino nel 2003 ha sviluppato un turismo di questa tipologia allora forse se proviamo anche come diriamente a spiegare qual è l'opportunità del mercato di servizi alle persone cioè dell'integrazione forse ci togliamo anche un retaggio culturale che abbiamo di considerare che è pesabile c'è un cittadino secondo me questo è un passaggio culturale il passaggio è importante perché si non ve l'ho detto attorno alla disabilità è necessario creare dei mercati perché sennò la disabilità non purtroppo il problema è che siamo ancora in una configurazione assistenziale e quindi noi continuiamo arrivati a dire abbiamo dei soldi piuttosto che dare dei servizi o delle opportunità per tutti pensato tanto io non lo so quello parte lì quindi insomma poi quando capita e capita anche a persone che decidono a tornare indietro allora se adesso ho capito capisce prima no? hai ragione l'Expo io sto lavorando per l'Expo l'Expo c'è un una confusione enorme per l'Expo il comune di Milano ha preso l'impegno di occuparsi dell'accessibilità esterna al sito è una litigata continua in me fra le associazioni no? e a noi che si vedono fuori dalle parti ovviamente c'è un rapporto diverso abbiamo provato a dare delle note semplicissime è faticoso provate a pensare alla sicurezza 112 in Lombardia da noi non c'è da noi c'è il 118 per il soccorso il 112 è il numero unico dell'emergenza è un obbligo europeo anche lì stiamo pagando delle note sperimentazione in Lombardia seconda regione dove si doveva sperimentare l'Emilia Romagna non parte terza la Sicilia forse non parte del il 112 112 data di guarda abbiamo fatto una proposta coinvolgendo altri e abbiamo reso accessibile per persone sorde il 112 quindi parte una sperimentazione che stavolta è reale vera per cui qualunque persona sorda al cellulare ovviamente si collega al 112 fa un numero dedicato dalla telecom fatto quel numero si apre la finestra video di questa o total communication cioè la persona che dall'altra parte se è un sordo insegnante interagisce con i segni se è un sordo un audioleso come definiscono i soldi che parlano quindi che usano la parola paroliste c'è una persona che sa riconoscere un linguaggio magari moderno quindi sa rispondere di conseguenza oppure simbolico di ritorno già delle tabelle che vi puoi rispondere questa cosa qui ha collegato un'assicurazione di una grande impresa che ha associato a questo servizio un'assicurazione che costa i soldi 10 euro all'anno per cui queste persone facendo sempre lo stesso numero riescono ad attivarsi anche altri tipi di emergenze che sono non ho il farmaco non ho il medico sono in alaska dove mi devo rivolgere quindi queste persone sempre con un operatore dell'altra se questa cosa non fosse stata vista nella sua totale avremmo fatto un operatore un operatore un operatore per quello che parla male un operatore perché quella altra associazione avrebbe detto ma copri a loro si e a noi no ecco capite che questa è questa è l'approccio è l'approccio è l'approccio l'expo loro prevedono i 20 milioni di visitatori che si rivedono che tendono di avere quasi tre con disabilità non hanno pensato a fare ci sono i giochi per i bambini cavoli ma medici ci sono dei giochi che costano uguali e che sono giochi che possono fare un bambino in calcina un bambino non in calcina anche assieme sono piattaforme uguali alle altre sono solamente diverse magari nel peso che possono reggere nell'apparato diciamo ah sono giochi non sono giochi che caratterizzano anche quelli un gioco per la disabilità certo tu ci vai a mettere il cartellino con la carostina vabbè allora ci vogliamo del mare no? però se tu fai quelli gastroni di gioco con oggetti che possono essere fluidi dai disabili ma non lo qualifici per i disabili come i bambini i bambini i donne i disabili le sono già perché i disabili e da parte non no? cioè cavolo ma facciamo un bambino per tutti cosa cosa cambia? no? è un costo sono andato a vedere una struttura che ha messo le ho contanti 53 water in bambini per i disabili qualificati per i disabili sono i water che costano di più hanno forse le avete visti spesso nei interi mercati hanno sotto l'apertura per la docetta per la docetta per fare la valvo insomma e non c'è la docetta non c'è la docetta per la docetta per la docetta per la docetta che ha comprato non con soldi pubblici per fortuna ma quindi qualunque cosa non so se riesco a far massare questo concetto con molta attenzione però perché molte volte si dice questo è un facilitatore ma attenzione che può diventare una barriera per l'altro alla conferenza nazionale per le disabilità c'era la CAMS che faceva il servizio lui mi ha suggerito tanto che fosse normale prende invece che prende le piatti normali con plastica grandi prende le piatti con le divisioni aspetti che hanno un piccolo rilievo quindi è facile è facile anche per noi perché vedete c'è un piatto tutto che da una parte ci mettiamo le fichine dall'altra parte il pesce faccio per dire no, lì c'è una divisione il sugo di uno ma dell'altro e lì c'è una divisione va benissimo per i disabili va benissimo per i centri perché a quel punto hanno sanno che in quel quadrato c'è una cosa in quel quadrato c'è una cosa in quel quadrato c'è un po' di testa scusate le domande scusate le mie passioni grazie 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 grazie